... ... ... ... Mettono a cercare questo canale di planet, io sono sempre il traslantotto e questo è Best & Worst Oggi voglio parlare delle aspettative riguardanti Hunger Games Incanto della Rivolta Parte 2 che personalmente io sto attendendo in maniera esagerata Intanto mi avete chiesto di registrare questo Best & Worst ho deciso di accontentarvi perché effettivamente ci sono diverse cose da dire a riguardo, ma bando alle cianci iniziamo subito con i Best Allora, un primo Best molto importante che credo non sia assolutamente da sottovalutare è il fatto che la presenza nel film di Jennifer Lawrence è nata di Dolmen, abbia portato le due attrici su head carpet a baciarsi per sbaglio realizzando così un mio sogno erotico antichissimo, ma scherzi a parte anche se non sto scherzando poi così tanto il motivo per cui io e tanti altri siamo attirati a questo film è proprio il fatto che Il Canto della Rivolta Parte 2 va a chiudere il cerchio per quanto riguarda la saga cinematografica di Hunger Games e si vuole vedere come il regista Francis Lawrence sia riuscito ad adattare alcune scene che già nel libro sono molto complesse sul grande schermo quello che mi interessa particolarmente è anche vedere se saranno rimasti abbastanza fedeli ai libri come hanno fatto finora oppure se per l'occasione decideranno di prendersi delle licenze magari cambiando qualcosa nel finale e sinceramente i presupposti perché questo avvenga effettivamente ci sono Lawrence deve essere stato molto bravo nella messa in scena perché ci sono alcuni momenti che sono davvero delicati basta un piccolo errore per mandare tutto a puttane finora però a me Lawrence ha dato abbastanza fiducia quindi non credo che abbia toppato tutto proprio nel finale anche perché questo film è stato girato contemporaneamente alla parte 1 come spesso accade in casi come questi quando un capitolo finale di una saga viene diviso in due parti solitamente viene girato come un'unica pellicola essendo mi piaciuto quindi il canto della rivolta parte 1 credo che il trend sia rimasto quello un altro motivo di curiosità è il fatto che abbia raggiunto nuovi personaggi per movimentare anche un po' le cose e sono curioso di vedere come renderanno sullo schermo Cressido interpretata dalla già citata Natalie Dorman nello scorso capitolo aveva una presenza scenica non indifferente e poi il fatto che la Dorman sia la merger di Tyrell del trono di spade sicuramente ha tirato in sala un sacco di fan ma si è dimostrata essere molto molto brava esattamente come nella serie tv spero solo che questi personaggi non siano dei burattini e che invece abbiano qualcosa da dire perché mi ricordo che nel libro non erano particolarmente sfaccettati e il rischio con personaggi come questi è che risultino parecchi inutili quando poi vengono trasposti sullo schermo un altro best molto importante che voglio asserire riguarda gli effetti visivi perché per quello che hanno mostrato finora sembrano veramente efficaci riuscivo perfettamente a riconoscere in ogni scena in cui comprende gli effetti visivi una scena del libro ed è una cosa che non mi capita molto spesso anche se magari vedo un fotogramma e ti dicevo cavolo ma quel momento in cui Katniss fa questo o quell'altro e questo mi ha capito molto perché sembrerebbe che certe scene che volevo vedere a tutti i costi sullo schermo siano state rese al meglio mi auguro che questa non sia solo una sensazione altrimenti mi incazzo infine l'ultimo grande best è il fatto che vedremo ancora una volta sul grande schermo Philip Simul Hoffman scomparsa ormai da più di un anno e vederlo al cinema è sempre un piacere perché comunque aveva in ballo film che sarebbero usciti parecchio tempo dopo la sua morte e anche il Gainse di Canto delle Volte a parte 2 è proprio uno di questi anche se in realtà lui non aveva finito di girarlo completamente inizialmente avrebbero voluto rimediare con la computer grafica però Francis Lawrence stesso ha deciso per rispetto all'attore di eliminare quei dialoghi che lui non aveva ancora girato e di sostituirli con qualcos'altro in modo da non doverlo ricostruire graficamente ma ci sono scene che aveva già girato in cui compare in questo film certo questo best ha un lato negativo ovvero il fatto che vederlo sul grande schermo ancora una volta coincide con il fatto che probabilmente sarà anche l'ultima volta che lo vedremo al cinema ma mi fa molto piacere perché non solo io adoravo Philip Simul Hoffman ma mi piaceva tantissimo anche il personaggio che interpretava Plutarch ed è anche per questo che sono molto curioso di vedere come chiuderanno questo personaggio quindi abbiamo visto i best adesso è ora di addentrarci nei meandri putridi dei Worst oh ma ci avete fatto caso che ogni volta le mie descrizioni dei Worst fanno sempre più schifo? allora innanzitutto in tantissimi non sono molto convinti circa questo film perché non hanno apprezzato il Canto delle Volte a parte 1 che quando uscì l'anno scorso fu investito da moltissime polemiche tante critiche al fatto che era effettivamente lento che non concludeva nulla io non sono molto d'accordo perché me lo sono voluto alla grande come ho già detto posso capire che alcune persone non l'abbiano apprezzato e bisogna anche ammettere che essendo stato girato tutto come un unico film come ho detto anche nei best se non si è apprezzata la parte 1 è irrispito che non si apprezzi anche la 2 grande anche se in realtà la parte 2 è abbastanza diversa nelle dinamiche rispetto alla prima sempre che abbiano rispettato abbastanza il libro dal momento che c'è molta più azione e c'è anche una sorta di collegamento con gli Hunger Games a livello morale l'azione è sicuramente maggiore e questo potrebbe giovare a chi non ha apprezzato la lentezza o la dilatazione dei tempi del capitolo precedente o meglio della prima parte di questo ultimo capitolo della saga ma qui ci ricolleghiamo ad un altro worst che effettivamente sulla carta è bello pesante ovvero il fatto che la materia da lavorare qui era trasportato sullo schermo era sicuramente più difficile rispetto a quella utilizzata per la prima parte dal momento che già nel libro che da molto è considerato il peggiore il terzo relativamente agli altri c'erano dei momenti che sembravano un po' un videogioco si proseguiva a tappe ho paura che proprio questo aspetto vada a ripercuotersi sulla trasposizione cinematografica perché più che mai il rischio di cadere in un'estetica molto videoludica è altissimo spero che Lawrence sia riuscito ad elaborare tutto quanto a modo suo cercando di rendere il meno fittizio possibile e anche più credibile perché mi ricordo che leggendo il libro pensavo si va bene ok quello che sto leggendo mi piace anche ma il ritmo adottato è molto strano rispetto a quello che avevo letto fino a 10 secondi fa se quindi già era straniante leggere tutto questo sulla carta stampata figuratevi che cosa deve essere poi portarlo sul grande schermo Lawrence è sicuramente stato chiamato ad affrontare una sfida per niente semplice quindi diciamo che questi due worst sono un po' figli del best di cui ho parlato prima spesso volentieri capita che un lato positivo ne nasconda uno o più negativi e me ne sono accorto adesso che ho iniziato a realizzare i best and worst la mia più grande paura è che abbiano cambiato drasticamente il finale dei suoi toni come già ho paventato nei best perché nel libro proprio nelle ultime pagine c'è una sfumatura che trasporre sul grande schermo ma è veramente difficile dal momento che è qualcosa che rende solo se la si vede scritta sulla carta e sinceramente mi auguro che non abbiano tolto alcune cose fondamentali perché il finale del libro che tanti avevano all'epoca considerato brutto per niente all'altezza dell'aspettativa ma invece mi ha colpito per la sua crudeltà per il suo essere mordace e quindi anche se hanno variato una cosina mi interessa che quest'atmosfera sia stata mantenuta perché se non l'hanno fatto io? no ma seriamente mi dispiacerebbe perché mi piace molto Hunger Games e trovo la trasposizione cinematografica molto interessante che ne dicono molte persone che la trovano sopravvalutata e la considerano roba da ragazzini quando in realtà raggiunge in certi momenti un livello di profondità raro per un blockbuster e devo ammettere che Fancy Sloan sa diretto anche con una certa maestria i capitoli che lui è affidati andando ben oltre quello che è il suo compito infine anche qui devo inserire un worst che mi ha fatto parecchio incazzare ovvero il trailer troppo spoileroso io ho già letto i libri quindi so come va a finire tutto quanto però il primo trailer che è stato mostrato e anche il secondo diciamocelo sono fin troppo rivelatori io non capisco come mai non sono più in grado di realizzare trailer che riescono a metterti un po' di hype un po' di entusiasmo per il film senza però raccontarti da cima a fondo porco cazzo ma se pensare ai trailer rilasciati finora riguardanti Star Wars si sveglia dalla forza dicono tutto e un cazzo non si capisce quale sia effettivamente la trama eppure ti mettono addosso una voglia assurda di vedere il film va bene ok ammetto che a noi fan sfrecattati di Star Wars basterebbe vedere un trailer di 40 secondi con solo il Millennium Falcon che vola con la musica in sottofondo saremo contenti ma hanno fatto molto più di questo e devo dire che sicuramente hanno raggiunto il loro scopo allora perché non fare la stessa cosa con un film come Hunger Games che canta una rivolta parte 2 mi chiedo e invece no devono mostrarti un sacco di cose mostrarti i rapporti che crescono e che muoiono insomma certe cose era assolutamente necessario non mostrare porca di quella pupazza infatti io invidio le persone che non hanno visto il trailer che hanno fatto benissimo se ancora lo avete guardato e per caso in sala parte all'improvviso mettetevi con l'indice la lecchia e fate guardando in alto perché davvero rischiereste di spoilerarvi alcune cose quindi vi sconsiglio vivamente di provare questa esperienza è come se ad Hollywood avessero disimparato come si monta un fottutissimo trailer che dovrebbe essere una cosa di base anche se in realtà è abbastanza difficile perché trovare delle immagini interessanti che ti mettano la voglia di vedere il film senza provare a spoilerare con delle musiche accattivanti non è sicuramente un compito semplice però cazzo ci sono usciti fino a qualche anno fa non capisco cosa sia successo adesso quindi questo è il best in world stradativi e il canto della rivolta parte 2 io come ho stato venito a scrivere un conto di solito cosa ne pensate e se non sei d'accordo e se non sei d'accordo perché non sei d'accordo naturalmente darmi qualche suggerimento per migliorare questa rubrica che comunque vedo che apprezzate ogni settimana di più quindi io vi abbraccio grazie mille per aver seguito fin qui ho sperato troppo noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti